Salve amici, benvenuti, bentornati nel canale. Non so se avete visto il video che ho fatto ieri riguardo alla 1.13.10, la nuova DJI Fly rilasciata. Beh, se non l'avete visto, ve lo dico scubito, c'è stato qualche problema. Il drone presentava dei lag, degli intoppi durante il volo, il ritorno video in live non era del tutto fluido, però il problema non è stato questo, cioè questa è stata una piccola parte del problema, il problema è stato poi ricevere un sacco, una valanga di commenti dove in tanti mi avete scritto che non riuscite più a volare con i vostri droni DJI e questo è veramente un problema. Ne parliamo insieme in questo video, vi darò alcuni suggerimenti utili e anche alcune soluzioni praticabili per poter portarvi a casa le riprese col vostro drone fino a che DJI non se ne esce con una versione nuova, perché hanno riconosciuto il problema e ci stanno lavorando. Comunque vi dico tutto in questo video, quindi seguitelo fino alla fine, se avete un Android, se avete un iOS, beh, potete anche passare oltre, non aggiornate e ci vediamo magari in un nuovo video. Comunque è una situazione abbastanza grave, ve ne parlo e vi do tutte le informazioni utili in questo video. Parliamo del test che ho fatto con la nuova versione, la 1.13.10, la nuova DJI Fly rilasciata due giorni fa circa. Con il mio iPhone 13 Pro Max ieri sera ho fatto un test, l'ho provata e l'ho condiviso nel mio canale YouTube. Durante il volo ho notato qualche piccolo lag, beh, il feed video in tempo reale non era proprio perfetto, ma alla fine niente che realmente abbia compromesso l'esperienza di volo. Tutto sommato il volo è stato stabile, l'applicazione non si è mai bloccata e sono riuscito a completare il test senza grossi problemi, senza grossi intoppi. Però è importante dire che per chi usa iPhone o altro dispositivo iOS, la versione 1.13.10 sembra essere compatibile e funzionante, con qualche piccola imperfezione come lag occasionali che potrebbero difendere da vari fattori, come la qualità della connessione o le condizioni meteorologiche. Ma la situazione è ben diversa per chi usa un dispositivo Android, come hanno segnalato molti di voi nel mio canale e sul forum DJI. Beh, andiamo subito a vedere i problemi segnalati dagli utenti Android. Dopo aver pubblicato il video test, come ho detto, ho ricevuto una valanga di commenti da parte vostra e quasi tutti i problemi segnalati riguardavano la versione Android e la versione della DJI Fly che avevo provato. In molti casi l'applicazione si bloccava subito dopo la schermata del logo DJI e non si riavviava più, rendendo impossibile utilizzare il drone. Questo problema sembra colpire in particolare i dispositivi Google Pixel e anche altri modelli Android. Poi vedremo come fare per risolvere e vedremo anche cosa dice DJI che però ha dichiarato che il problema c'è e ci stanno lavorando. Un esempio emblematico è quello di un utente che ha acquistato un Mini 3 il giorno prima e ha scoperto il giorno successivo che l'applicazione non si apriva più sul suo OnePlus con Android 13. Beh, tutto funzionava perfettamente ma una volta fatta partire l'applicazione ha smesso di funzionare, ha smesso di rispondere. Un altro utente con un Pixel 6 ha riportato che dopo aver disinstallato l'applicazione questa non si installava più correttamente. Ci sono molti altri casi simili. Beh, un utente con Pixel 4 mi ha raccontato che l'applicazione funzionava bene fino a pochi giorni fa ma poi dopo si è chiusa e non si è più riaperta. I commenti riportano problemi su dispositivi come il Pixel 7 Pro con Android 14, il Realme GT 2 Pro e persino su dispositivi aggiornati alle ultime versioni di Android come il Pixel 8 Pro. Anche altri utenti con Xiaomi stanno riscontrando problemi simili. La situazione sembra comunque diffusa il che suggerisce che ci sia un problema serio di compatibilità tra l'ultima versione dell'applicazione e il sistema operativo Android. In un caso un utente ha persino detto di essere in vacanza e di non poter più utilizzare il proprio drone perché l'applicazione non si avvia più. Beh, questo è frustrante sicuramente, specialmente considerando quanto abbiamo investito in questi dispositivi per poterli usare in situazioni speciali come le vacanze. Andiamo a vedere cosa dice DJI. Naturalmente vi lascerò un link al forum ufficiale, magari se avete voglia guardatelo, leggetevi tutti i commenti. Io ho riassunto un po' quello che è la posizione DJI al momento. DJI ha risposto a queste segnalazioni sul forum e ha riconosciuto il problema. Hanno confermato che molti utenti Android, in particolare quelli con i dispositivi Google Pixel, stanno riscontrando difficoltà nell'aprire l'applicazione DJI Fly. Ma non solo, ma anche con DJI Mimo, quindi è un problema proprio diffuso. Naturalmente DJI rassicura gli utenti, dice che il problema è stato segnalato ai loro ingegneri che stanno lavorando per trovare una soluzione, bla 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 bla, insomma le solite tiritere DJI. Un aspetto però importante della risposta è che stanno distribuendo un link temporaneo per scaricare una versione corretta dell'applicazione. E alcuni utenti hanno ricevuto questo link via messaggio privato dopo aver contattato il supporto tramite il forum ufficiale. Per questo è molto importante questo link che vi lascerò qua sotto. Sembra che questa versione temporanea dell'applicazione stia funzionando per molti dispositivi, come confermato da alcuni utenti proprio sul forum. Riescono in questo modo a ripartire con l'applicazione a volare e comunque a portare a casa le loro immagini, come è giusto che sia. Però, però, c'è un però. Non tutti gli utenti hanno ricevuto il link in modo tempestivo e molti stanno ancora aspettando di ottenere una soluzione. DJI ha inoltre consigliato agli utenti di assicurarsi che il loro dispositivo Android abbia almeno 10 GB di spazio libero e provare a cancellare la cache dell'applicazione prima di ristallarla. Queste soluzioni però non sembrano che abbiano funzionato. Infatti, chi l'ha provato, poi alla fine ha detto che non ha risolto. Quindi, cosa fare in attesa della soluzione definitiva che ci sarà tra qualche giorno, forse anche tra qualche ora, perché DJI è generalmente abbastanza pronta a risolvere questi problemi. Mentre aspettiamo che DJI rilasci questa nuova versione, ci sono alcune cose che possiamo fare per gestire meglio la situazione. Soprattutto se stiamo utilizzando Android, come ho detto, e abbiamo bisogno di far volare il drone urgentemente. Beh, contattare DJI sul forum per farsi mandare il link temporaneo, il link dell'applicazione temporanea. Se l'applicazione non si avvia, questo è il consiglio che vi do. DJI sta fornendo appunto questo pacchetto temporaneo per risolvere il problema su molti dispositivi, tra cui, come ho detto, il Pixel è uno di quelli più colpiti da questo problema. Beh, se ancora però hai scritto a DJI e non hai ricevuto il link, ti consiglio di inviare un messaggio al supporto tecnico sul forum spiegando la situazione. Quindi non basta scrivere la mail, magari scrivete anche sul forum, lamentatevi, lamentiamoci un po' che risolvano questo problema. Inoltre, assicurarsi di avere uno spazio sufficiente, come ho detto, 10 GB di spazio libero, e provare a cancellare la cache di dati dell'applicazione prima di reinstallarla nuovamente. Un'altra cosa da poter fare è provare a disabilitare gli aggiornamenti di sicurezza di Android. In alcuni casi, alcuni utenti hanno riscontrato che questa procedura funziona. Dopo aver fatto questa procedura, sono riusciti poi a volare con i loro droni. Quindi, temporaneamente, blocchiamo gli aggiornamenti automatici del sistema operativo per evitare problemi. Beh, se avete un drone precedente a questo, come un Mini 2, un Air 2, un Air 2S, un altro consiglio che vi do è quello di provare applicazioni di terze parti. Lici, ad esempio, tra le prime, Maven, ne ho provate un sacco, trovate un sacco di video qui nel mio canale, con i dispositivi più datati, con gli SDK rilasciati, in questo modo, beh, voliamo, anche se non con la DJI Fly, però portiamo a casa le nostre riprese. Beh, vi consiglio di mantenervi aggiornati sulla situazione, monitorare il forum DJI, beh, iscrivetevi al mio canale YouTube perché sicuramente poi annuncerò la nuova versione, la proverò e vi darò anche notizia su come va. Se hanno risolto non solo il problema di compatibilità con i Pixel, con i Google Pixel, alcuni dispositivi marcati, brandizzati, Google, però se hanno risolto anche i problemi di lag, perché ce ne sono stati un sacco che mi hanno scritto, mi hanno detto, anche in privato, David, va male, questa applicazione non va bene. Bene, io direi a questo punto, andiamo alle conclusioni e, beh, infine, cosa dire? Questa 1.13.10 funziona abbastanza bene con iOS, vi consiglio di non installarla comunque, perché prima guardatevi anche il test che ho fatto e poi decidete tranquillamente, ma io vi consiglio di non metterla al momento. Sappiamo che DJI ha riconosciuto il problema, che ci sta lavorando su per trovare una soluzione, nel frattempo, se abbiamo già installato una nuova versione, il drone non funziona più, cioè non possiamo più far partire l'applicazione, seguite la procedura che vi ho appena detto. Se nulla va bene, scrivete al supporto tecnico DJI tramite il forum, trovate i contatti nel forum ai tecnici DJI, che vi manderanno questa applicazione temporanea per portare a casa delle riprese. Naturalmente sarà una versione un po' fatta di corsa, quindi non è il caso di tenerla su per tanto tempo. Aspettiamo l'aggiornamento, però questa è l'unica soluzione che c'è al momento. Aspettando che DJI riesca a risolvere questo problema rapidamente, io vi ringrazio dell'attenzione, scrivetemi come vi siete trovati, beh, teniamoci in contatto e rimanete sintonizzati al canale, ci saranno sicuramente aggiornamenti. Vi saluto, una buona serata a tutti, alla prossima, ciao!